Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi grandi aggiornamenti perché ci sono tantissime novità. Finalmente il sell-off sulle cripto. Sell-off per quanto possa essere un sell-off, ma vedremo nel dettaglio che cosa è successo e perché c'è stato questo profondo cambiamento di prezzo. Poi perché sono andate giù tutte soprattutto, ma quello è ovvio. Quando ne scende una, generalmente le altre gli vanno dietro. Poi novità anche sui mercati finanziari perché dopo il caos della settimana scorsa con Trump che ha fatto veramente una cosa impensabile per la democrazia USA, i democratici hanno deciso di portare avanti una richiesta di destituzione del Presidente a dieci giorni dal cambio di presidenza. Quindi c'è una richiesta abbastanza tardiva se vogliamo, se proprio vogliamo dirla tutta, visto le precedenti settimane. Però detto questo, vabbè, niente di particolare, non ci impicciamo troppo sulla politica. Però andiamo a vedere subito che cosa sta succedendo sui mercati perché ci sono tantissime novità e andiamo innanzitutto a parlare dei premercati. E poi parleremo dell'ecritto perché è molto interessante vedere quello che è successo, soprattutto quello che hanno combinato le balene. Quindi andiamo subito con i grafici e andiamo a vedere innanzitutto il grafico del Nasdaq che dopo aver toccato il nuovo record a 13.130 dal venerdì, oggi si trova in un momento di leggera flessione. Quindi meno 0.45 per il futures in questo momento e meno 0.40 all'SP500, sempre in questo momento siamo alle 9.30 quindi manca ancora un po' la ripartura dei mercati americani che apriranno nel pomeriggio. Oggi inizia la settimana della stagione degli earnings, quindi con la prima settimana degli earnings e comincia oggi tra le aziende un pochino più famose. La prima sarà Carnival Corporation, ovvero l'azienda che si occupa di crociere e turismo quindi non ci aspettiamo ovviamente dati esaltanti, ci mancherebbe altro. Il 21 sarà la volta di IBM e Intel e dal 27 in avanti saranno Apple, Google, Facebook e tutte le grandi big tech a portare attenzione sui mercati. Quindi sarà una quindicina di giorni questo fine gennaio, da qui in poi saranno assolutamente settimane molto molto interessanti. Ci sarà assolutamente volatilità, il 20 gennaio c'è il passaggio di consegne ufficiale in cui si insiederà Biden e quindi anche qui ci sarà molto molto da vedere e da capire cosa succederà. Nel frattempo andiamo un pochino a vedere come aprono i mercati europei. Meno 0,28 per il Fuzzimib italiano, meno 0,44 per il DAX, meno 0,78 per il UK e va benissimo. Qui vi ricordo che abbiamo aperto uno short. Meno 0,39 per la Francia in questo momento. La Cina ha chiuso, anzi sta non ancora chiuso, ci fiuscio sulle listine, sono ancora aperti. Meno 0,99 per il C6,300, meno 0,80 per il CN50, il CN50, l'Hang Seng di Hong Kong positivo, più 0,57 per il Giappone, meno 0,72. Il VIX che nel momento è fermo ma venerdì ha toccato più 8,58 per cento con una grandissima volatilità. Non grandissima, non gigantesca ma molto molto comunque interessante come volatilità. L'Eurostox in questo momento è meno 0,72, quindi borse abbastanza tranquille per il momento, molto incerte, recupera, prende forza il dollaro come era lecito attendersi. Quindi finalmente, finalmente per chi si occupa di strategie sul Forex, perché anche qua sul GBPUSD avevo già segnalato la possibilità di uno short e qui in effetti lo short è entrato per il momento e stiamo dentro sulla posizione ribassista perché mi aspetto che quindi il dollaro riprendendo vigore soprattutto sulla sterlina che potrebbe essere un momento forse quella più penalizzata rispetto al cambio con le altre valute e inoltre anche lo short su EURUSD in questo momento sta andando secondo i piani perché anche qua avevo dato la possibilità, ho detto che c'era la possibilità di entrare short anche sull'euro e in effetti vedete che a questo momento quindi come era ovvio attendersi finché il dollaro recupera posizione, recupera forza, tendenzialmente tutte le altre valute tendono a scendere. Infatti adesso qui vedete siamo proprio sul dollaro, questo è proprio lo USD e vedete come da tre giorni sta riprendendo un pochino di vigore. Vigore del dollaro che porta ovviamente, riporta un po' di liquidità sull'oro, qui siamo sul time frame a due ore sull'oro, anche qui stamattina ho dato il segnale ai miei follower sulla trading chat su Telegram dove ho detto attenzione al dollaro, attenzione scusate, attenzione all'oro, possibilità rialzista, possibilità di un rimbalzo per l'oro soprattutto visto quello che è successo un po' sulle criptovalute dove c'è stato veramente una tempesta nel weekend così come era lecito attendersi perché nel scorso weekend c'era stato veramente un pump enorme e stavolta viste le premesse del weekend del venerdì poteva esserci, dovevamo aspettarci come l'altra volta dei movimenti piuttosto potenti e così è stato e poi adesso li vedremo anche nel dettaglio. Comunque attenzione quindi all'oro, attenzione all'oro perché ve lo faccio vedere sul time frame a due ore gli oscillatori dicono che è andato a toccare dei massimi di iper venduto e quindi ci sta un piccolo rimbalzo ho detto piccolo quindi non vi aspettate di rivedere l'oro a 2000 dollari per il momento perché difficilmente secondo me andremo a vedere quelle quote. Per il momento parliamo di piccoli rimbalzi quindi andiamo a vedere piccoli target quindi 1,860 come primo target vedete 1,861 dopodiché siamo sulla seconda struttura 1,880 e poi nel caso di bypass della seconda struttura andiamo sul terzo target che è 1,9 qui quindi mi raccomando molta attenzione vi ricordo che nessuno deve aprire operazioni finanziarie guardando i miei video ma stiamo facendo didattica stiamo guardando insieme come vanno i grafici, come ci si comporta sui grafici e soprattutto che cosa possiamo attenderci e a proposito di attese andiamo un attimino a vedere altre commodities perché siamo sul gas naturale gas naturale che fa oggi meno 3,26% e guardatelo qui esattamente come avevamo detto qualche giorno fa a 2,75-2,80 vedete ha cominciato a scendere il gas è cominciato a scendere e come tale adesso ha fatto questo massimo qui leggermente più basso del massimo precedente e adesso staremo a vedere se andrà a toccare un minimo, un nuovo minimo minore di questo dell'ultimo minimo qui arrivato a 2,25 io lo aspetto più o meno a 2,20 staremo a vedere se ci arriverà o non ci arriverà anche qua abbiamo uno short aperto speriamo che ci porti qualche interessante profitto quindi per il resto non c'è molto da dire il cotone è leggermente in flessione anche il rame sembra risentire un pochino delle ultime salite ma guardate qua il rame ha fatto veramente una galoppata enorme siamo veramente arrivati a 3,62 quindi davvero per il rame c'è ancora spazio per arrivare verso i 4 dollari staremo a vedere se ci arriverà molto dipenderà un po' da come riprende l'economia perché ovviamente per il momento il rame è sostenuto dalla richiesta asiatica quindi dalla grande richiesta, dalla grande domanda della Cina ma con le nuove ipotesi di leggi dei democratici che andranno a favorire tutto quello che è il settore utility tutto quello che è il settore green ci si aspetta comunque un maggior consumo di rame quindi probabilmente assisteremo ancora a un aumento del prezzo staremo a vedere se sarà così ma adesso andiamo a parlare di quello che ha smosso i mercati nel weekend che è quello che ha fatto andare in panico tanti piccoli investitori non grandi eh, piccoli investitori Bitcoin 35.366 in questo momento meno 7,20% ma abbiamo fatto anche meno 12% siamo andati a toccare i 32,500 è una quota interessantissima perché tra l'altro guardate è proprio su questa struttura qui ma non solo, guardiamocela un pochino anche con Fibonacci e quindi la prendiamo qui, scusate così andiamo a vedere allora, qui abbiamo l'ultima salita eccola qua, la prendiamo da qua andiamo a vedere un pochino qua dove è arrivata è arrivata qui il primo ritracciamento di Fibonacci si è fermato a 38,2 vedete, ha cominciato a scendere e si è fermato qui per il momento tra l'altro a 32,500 che è una quota interessantissima perché adesso vi spiegherò anche il motivo adesso non sappiamo qualcuno mi stava chiedendo se poteva arrivare sotto i 34 io ho detto che massimo lo sarei aspettato sui 35 invece devo dire che mi ha un po' spiazzato anche a me ma poi dopo ovviamente riguardante un attimo i grafici era più che lecito attenderselo intorno ai 32 ha finito di scendere? non lo sappiamo se ha finito di scendere questo non può saperlo nessuno ma possiamo cercare di capire come si muoverà il prezzo allora, premetto che dal mio punto di vista personalissimo e poi resta mio il prezzo di Bitcoin nel futuro quindi nei prossimi mesi resta comunque rialzista adesso siamo certo da un ricorso storico andiamo un attimino indietro nel tempo guardate qua allora siamo esattamente a qui eravamo a metà dicembre adesso siamo arrivati a gennaio più o meno diciamo però tre anni fa cosa era successo? dopo aver toccato il massimo qui c'era stato un ritracciamento questo ritracciamento qua questo qua che si era chiuso tra il 22 dicembre e poi c'era stato un rimbalzo vedete? e poi c'era stato un altro profondo ritracciamento che aveva portato il prezzo addirittura a 5.000 dai 17.000 adesso non dico che la storia si ripete però è interessante dal punto di vista di analisi ciclica vedere come i prezzi si comportano più o meno nello stesso modo e quasi nello stesso lasso di tempo perché anche qui siamo arrivati comunque a gennaio-dicembre che è cominciato a scendere adesso se vogliamo farci un pochino più di diciamo qualche scrupolo in più dal punto di vista statistico andiamo a prenderci magari che ne so questo livello qua di di Fibonacci andiamo a vedere un po' dove era arrivato qua se prendiamo questa salita qua vedete siamo sul livello 0.51 poi è andato a rimbalzare ma se prendiamo in realtà l'ultimo l'ultimo spike questo qua era finito anche qui siamo su scusate ho misurato male perché eravamo arrivati qui eccolo qua siamo su 0.51 se lo tiriamo più su eravamo arrivati su 0.61.8 e poi era rimbalzato era tornato su e poi era tornato di nuovo giù adesso il passato non è certezza del futuro che la cosa si possa non ripetere ma è molto interessante vedere che comunque questo ritracciamento per il momento c'è stato e sembra essersi fermato a 32.500 e adesso siamo a 35.400 c'è un leggero recupero non sappiamo se da qui adesso potrà tornare in alto oppure se continuerà diciamo a scendere quindi a tentare di testare di nuovo questa quota ma quello che è interessante capire torniamo un attimino su bitcoin quello che è interessante vedere è che sono scese un po' tutte le cripto sono scese ethereum ha fatto meno 12 dopo il grande dopo il grande il grande salto quindi era arrivato addirittura a superare il 1.200 a toccare oltre i 1.300 poi ha fatto è scesa con questo candelone enorme e adesso siamo a meno 12% ma ripeto un po' tutte le cripto sono scese e sono scese perché ovviamente tutte vanno nella stessa direzione quando si muove quando si muove la grande balena e soprattutto parliamo di balene perché vi faccio vedere un grafico molto interessante che è questo qui quello di whale map dove viene riportato un po' il movimento delle balene per numero di bitcoin perché vi dico questo perché è interessante allora innanzitutto per un motivo molto semplice allora che cosa è successo su bitcoin in questo weekend pare questo un po' dal tracciamento dei movimenti delle balene quello che si fa insomma in questo caso pare che ci sia una specie di battaglia tra le balene quindi coloro che detengono più di 25.000 bitcoin tra chi vende e chi compra o meglio allora pare che in questo momento nel mercato asiatico si stia vendendo i bitcoin soprattutto nella parte della Corea mentre negli Stati Uniti si sta assistendo a un accumulo di bitcoin quindi c'è chi spinge il prezzo verso il basso quindi chi trae profitti in questo momento questo si capisce dal deflusso della coinbase che indica che comunque ci sono forti accumuli negli Stati Uniti e poi questo capitale fermo quindi in qualche modo torna a muoversi e quando torna a muoversi significa che se si riversa sulle criptovalute in qualche modo ci sono movimenti molto molto forti quindi è davvero interessante vedere che ci sono queste battaglie diciamo in qualche modo tra le grandi balene e quindi sono loro che alla fine muovono il mercato capito quindi è per questo che vediamo questi movimenti enormi di discese o di salite però per il momento diciamo quello che possiamo vedere noi quello che possiamo cercare di capire andiamo a vedere da questa mappa perché è interessante allora andiamo innanzitutto a vedere questa mappa cosa ci dice ci dice le bolle che vedete qua a queste grandi bubble sono esattamente diciamo dove sono posizionate le balenici dove ci sono i più grandi accumuli di bitcoin in qualche modo adesso sto facendo aggiornare un pochino la mappa vediamo se riusciamo a portarla se l'ho portata un po' troppo indietro allora andiamo un attimino più avanti adesso io volevo farvi vedere una cosa molto interessante appena la mappa ci dà una risposta eccola qua allora dunque adesso cerchiamo di ingrandire un pochino purtroppo è un po' lenta perché i dati che deve caricare sono abbastanza sono tanti e sto cercando di portarla su un time frame un pochino più consono per quelle che sono le nostre necessità ecco vedete adesso le bolle tutte quelle bolle che stanno che avete visto prima si stanno un pochino rimpicciolendo perché sto andando a zoomare esattamente sui movimenti ecco qua piano piano e adesso vi faccio vedere cosa cosa intendevo allora eccoci qua allora fermo lì eccoli allora vedete c'è stato che cosa sono stati grandi movimenti eccoli qua guardate c'è stato questo grande movimento qua intorno ai 40.000 poi c'è stato questo grande movimento di balene vedete qua sui 42.000 quando abbiamo toccato diciamo il massimo e poi abbiamo un altro punto qui di accumulo o di interesse che era intorno ai 39.000 qua vedete siamo intorno a questo prezzo qua intorno ai 39.9 questo è molto divertente le bubble ci dicono la location dove i biconia sono accumulati o in flowed quindi in qualche modo mandati via allora perché è interessante la quota di 32k vi faccio vedere perché è interessante perché guardate un attimino 32k rappresenta questo punto qua vedete questo punto di accumulo o di in qualche modo vendita quindi da 32k a fino a saliamo andiamo a salire qui intorno ai 39k 38k c'è esattamente il vuoto significa che il prezzo tra queste due quote è stato in qualche modo mosso non tanto dalle balene ma più che altro dagli investitori un pochino più piccoli quindi adesso perché bitcoin si è andato a fermare esattamente qui intorno ai 32k perché dove ha trovato il primo accumulo quindi era molto interessante quella che abbiamo la struttura che abbiamo visto proprio sul grafico andiamo a rivederla un attimino proprio sul grafico eccolo qua allora eccolo qua era molto interessante allora siamo su ethereum torniamo su bitcoin qua scusate se è un po' lento è molto interessante vedere che si è andato a poggiare proprio sui 32.500 esattamente dove le balene sono andate a posizionarsi con il loro punto di controllo ok vediamo il loro price of control perché dove si sono accumulate e vedete che in effetti qua c'è questa struttura che è molto forte dove ci sono stati enormi scambi vedete c'è uno spike qui poi c'è uno spike qui sotto quindi significa che qua ci sono stati dei movimenti di volumi molto interessanti e quindi vedete che alla fine in qualche modo l'analisi tecnica comparata a quelli che sono anche i movimenti delle grandi balene che si muonono su Bitcoin ci dà comunque una mano a capire che cosa sta succedendo quindi torniamo un attimino per quanto riguarda la well map perché a un certo punto dobbiamo anche capire cosa potrebbe succedere allora siamo qua quindi abbiamo visto questo è un punto di accumulo 32 quindi per il momento diciamo che il supporto più forte è questo qua se dovesse rompersi questo supporto qua guardate un po' arriviamo sui 29 arriviamo sui 29 qua poi abbiamo un altro 28 e 7 quindi è molto interessante vedere come eventualmente se dovesse cadere anche questo supporto potremmo attenderci i prossimi rimbalzi semmai o i prossimi movimenti li potremmo vedere intorno a questi prezzi qua quindi non sappiamo se effettivamente hanno finito di scendere le criptovalute ma quello che possiamo sapere o almeno quello che possiamo cercare di scoprire di capire è quello che può fare il prezzo e quindi noi dobbiamo fare attenzione a come si muoverà il prezzo bene spero che questo video molto breve vi sia piaciuto vi sia stato utile e come sempre se i miei video vi piacciono lasciate pure i vostri commenti i vostri like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati come sempre ci vediamo nei prossimi aggiornamenti penso oggi di farne altro perché ho ricevuto diverse richieste tra cui qualcuna anche sui script vi parlerò un po' anche di script poi vedremo magari faremo un video anche sulle strategie di posizionamento perché mi avete chiesto un po' anche quello e quindi c'è tanta carne a fuoco restate collegati al canale perché arriveranno nuovi nuovi aggiornamenti molto molto presto bene per il momento è tutto come sempre vi saluto stay tuned e finger crossed ciao a tutti